Musica Ciao a tutti ragazzi, qui come sempre Desk vi parla e oggi sono finalmente qui per presentarvi Equinox e farvi vedere poi come l'ho buildato e successivamente anche per farvi vedere un breve gameplay. Primissima cosa, è importantissimo su Equinox tenere presente che in realtà si tratta di due Warframe in uno, infatti andando sulla personalizzazione dell'aspetto troveremo questo tasto particolare in basso a destra che ci permetterà di switchare fra un suo aspetto e l'altro, questo sarà l'aspetto diurno, quindi quello di giorno, come vedete ha una prevalenza di colore numero 2 e 4, invece cliccando ancora sul tasto metamorfosi vedremo l'aspetto notturno che invece ha una prevalenza del colore 1 e 3. Per quale motivo vi sto precisando quali colori utilizzano? Perché ripremiamo di nuovo il tasto metamorfosi e ritorniamo alla versione ibrida, come vedete è colorato quasi come se fosse una scacchiera, quindi abbiamo la parte in alto a sinistra, al centro a destra, in basso a sinistra con i colori della forma notturna e viceversa gli altri, sono i colori della forma diurna. All'inizio io vi consiglio di tenere ben distinti questi due colori, quindi usare il primo e il terzo con un colore più scuro per ricordarvi che è la forma notturna e il secondo e il quarto per ricordarvi che è la forma giornaliera, quindi scegliete magari qualcosa di più chiaro. I colori base in realtà vanno benissimo perché sono bianco e nero e vi aiuteranno veramente a distinguere quale aspetto starete giocando in un dato momento, così eviterete magari di lanciare le abilità sbagliate. Questo è solo un consiglio, comunque poi valutate voi. Andiamo adesso a vedere le abilità, visto che le ho menzionate, e cerchiamo di capire perché secondo me è bene avere due colori distinti per evitare di confondersi. Come vedete la seconda, la terza e la quarta abilità si chiamano con due nomi, abbiamo Rest and Rage, Pacify and Provoke, Mend and Mame. Per quale motivo? Perché a seconda dell'aspetto che avremo, quindi diurno o notturno, utilizzeremo una o l'altra abilità. La prima abilità si chiama Metamorphosis, come il tasto su cui abbiamo cliccato prima, e ci consentirà effettivamente di passare dall'aspetto notturno, quello diurno e viceversa. Quindi in funzione dell'aspetto che avremo scelto, potremo utilizzare una o l'altra abilità. Per questo è importante, secondo me, distinguere visivamente e a colpo d'occhio, quindi rapidamente, che aspetto stiamo utilizzando. Sono diversi esteticamente, quindi con un po' di pratica, un po' di esperienza, non servirà necessariamente avere due colori distinti, però all'inizio, secondo me, può aiutare. Dunque, come vi dicevo, la prima abilità ci permette di effettuare una transizione fra un aspetto e l'altro. Una volta passato da un aspetto a un altro, per qualche secondo godremo di bonus particolari, nel caso in cui avremo switchato, quindi saremo passati nella forma notturna, godremo di un bonus agli scudi e all'armatura, che durerà comunque pochi secondi. Nel caso in cui invece decidessimo di passare la forma diurna, quindi giorno, avremo un bonus di danni e di velocità. Già da qui avrete capito che la forma notturna è più difensiva e quella diurna è più votata all'offesa, e sarà così per tutte le altre abilità. Passiamo a Rest and Rage. Nella forma notturna ci consentirà di addormentare dei nemici, nella forma invece diurna ci consentirà di farli arrabbiare, per questo si chiama Rage. I nemici arrabbiati saranno più veloci, ma saranno più vulnerabili ai nostri attacchi, quindi gli faremo più male. Questa abilità sfrutta molto la portata in un modo particolare, infatti questa abilità non viene castata ad area, ma viene castata su uno specifico bersaglio che dovremo quindi puntare. Più portata avremo, più lontano potremo lanciare questa abilità, e una volta lanciata su un avversario si propagerà su una piccola area d'effetto, che anche questa scalerà la nostra portata. Quindi riusciremo, nel caso della forma notturna, ad addormentare non solo il bersaglio puntato, mirato, targettato, ma anche i bersagli all'interno poi della portata che verrà generata, quindi potremo addormentare effettivamente ad area. Nella forma diurna invece potremo far arrabbiare, diciamo, ad area più nemici, in modo tale da renderli più vulnerabili ai nostri attacchi. Onestamente nella forma diurna a me non piace tanto questa abilità, la preferisco molto di più nella forma notturna, con la capacità di poter addormentare i nemici, che saranno poi tra l'altro vulnerabili alle finisher, quindi alle finisher degli attacchi corpo a corpo. Veniamo alla terza abilità, pacify and provoke. In forma notturna questa abilità ridurrà tutti i danni che i nemici saranno in grado di infliggere a noi e ai nostri alleati. Nella forma diurna invece aumenterà la potenza potere dei nostri alleati. Quindi questa abilità è un'abilità invece con un'area d'effetto classica, ovvero noi saremo al centro di questa area d'effetto, è un'abilità toggle, cioè una volta attivata rimarrà attiva e continuerà a drenare energia e in sostanza ci permetterà insomma di generare un bonus sui nostri alleati nel caso della forma diurna, quindi un bonus di potenza potere, oppure un malus di danno sui nemici, quindi infliggeranno meno danni. Veniamo all'abilità finale che si chiama mend and maim, anche questa è un'abilità toggle, ovvero premiamo, l'attiviamo e continuerà a drenare energia, ma è un po' particolare. Nella forma notturna ci consentirà infatti di curare i nostri alleati, anche noi stessi. Nella forma diurna invece ci consentirà di danneggiare gli avversari. Però questa abilità funziona in un modo veramente particolare. Una volta attivata comparirà un contatore in alto a destra che continuerà ad aumentare via via che uccideremo nemici. Questi nemici potranno essere uccisi anche dai nostri alleati, l'importante è che siano all'interno dell'area d'effetto di questa abilità. Più nemici verranno uccisi, più questo contatore aumenterà. Nel momento in cui riattiveremo questa abilità, nel caso della forma notturna, consumeremo questa energia accumulata per curare i nostri alleati, nel caso della forma diurna, consumeremo questa energia per danneggiare tutti i nemici presenti nell'area. La cosa buona, soprattutto nella forma giornaliera, è che essendo un'abilità che è in grado di accumulare un danno semplicemente uccidendo i nemici, funziona un po' come l'ultima abilità di Nyx, quindi può essere accumulata veramente virtualmente all'infinito ed è in grado quindi di scatenare sui nemici un danno elevatissimo senza necessariamente avere tanta potenza potere sul nostro Warframe, perché appunto può essere accumulata direttamente giocando. Per cui è importante ricordarsi che questa abilità viene attivata, drena energia nel tempo, dobbiamo poi uccidere i nemici per accumulare questo contatore, valgono anche le uccisioni degli alleati purché siano a portata, riattivando questo tasto nella forma notturna cureremo noi stessi e i nostri alleati, nella forma diurna danneggeremo tantissimo gli avversari. Importante è precisare che nella forma diurna, nel momento dell'attivazione, riusciremo anche a bloccare per un paio di secondi i nemici, perché verranno di fatto stannati per un secondo. In più continueranno tra l'altro a beccarsi un danno nel tempo, un danno da taglio nel tempo, e questo sarà costante fino a quando riattiveremo la nostra abilità, per cui soprattutto sui corpus che hanno veramente poca vita, questo danno da taglio li farà molto molto male. Andiamo adesso a vedere come ho moddato effettivamente Equinox. Direi di partire subito dall'aura. Abbiamo una polarità col tratto orizzontale, quindi io metto quasi sempre Energy Siphon. Ovviamente ci sono delle situazioni in cui potremmo voler utilizzare proiezione corrosiva, in particolare nel Void o contro il Grainir di alto livello. Abbiamo poi una polarità D innata su questo Warframe e una polarità V anch'essa innata. Io direi di partire adesso invece dalle mod difensive. Cosa ho utilizzato? Lasciate perdere per il momento vigore. La mod che ho deciso di utilizzare come mod difensiva principale è Vitality, perché abbiamo pari valori di vita e scudi su Equinox maxato, quindi abbiamo 420 di scudi e 420 di salute base. Quindi ho preferito sfruttare Vitalità, perché sono in grado poi di curarmi con Life Strike, oppure con l'abilità finale di Equinox in forma notturna. In più sono in grado poi di accoppiare Rage, quindi di riuscire a convertire il 40% dei danni inflitti sulla mia salute in Energia, che di sicuro mi può aiutare. Per quanto riguarda il resto della build, bisogna come al solito mettere in evidenza quali sono secondo noi le caratteristiche fondamentali, i tratti più importanti del nostro Warframe. Per quanto riguarda Equinox, io avevo iniziato a fare una build basata su efficienza e potenza potere, perché secondo me era la cosa migliore, efficienza perché mi abbassava il costo dell'abilità, potenza perché vedevo che scalava bene su quasi tutte le sue abilità, forse addirittura tutte quante. Il problema è che mi sono reso conto che, per quanto a potenza potere mettessi su Equinox, non notavo poi questi bonus effettivi, non notavo poi questi effetti, insomma, in più, per cui ho deciso di provare un'altra build che avevo visto giocare già da altre persone, ho detto, ma sì dai, diamogli una provata, che era basata su efficienza e portata. Ed effettivamente, ragazzi, mi è piaciuta, funziona molto bene, e non sento la mancanza della potenza potere che avevo prima, anzi, sento però tantissimo i benefici dell'avere tanta portata. Quindi andiamo a vedere questa build basata su efficienza e portata. Chiaramente se ci vogliamo basare tanto su portata, non possiamo non mettere le uniche due mode da portata presenti al momento in gioco. Quindi Overextended, che ci dà tanta portata a discapito della potenza, che però vi ho detto non ci interesserà su questa build, e poi Stretch, che aumenta ulteriormente la nostra portata. Per quanto riguarda l'efficienza energetica, vado a mettere una Fleeting Expertise maxata, non è un obbligo metterla maxata, ma io mi ci sono trovato bene. Dopodiché, io vi dicevo, gioco con Rage accoppiata con Vitality, ho anche Energy Siphon, quindi dal punto di vista energetico sono abbastanza coperto. Poi vado anche ad inserire un Primed Flow, che in realtà al momento è uguale a un Flow maxato, quindi ho 450 come capienza energetica, quindi davvero dal punto di vista energetico sono ben coperto. Per sfruttare la polarità V, ho deciso di andare a limare però il malus pesante di durata potere, che mi ha generato Fleeting Expertise, quindi ho messo la mia Primed Continuity quasi maxata, e sono riuscito a eliminare quasi tutto il malus. Se la mia Primed Continuity fosse maxata, di fatto avrei 95% credo di potenza, scusate, di durata potere, quindi avrei limato quasi completamente il malus. Mi trovo bene con la durata base, perché non ho sentito semplicemente la necessità di averne di più. Per farvi un esempio, la seconda abilità, in forma notturna, ma anche in forma diurna, che è quella che addormenta o fa arrabbiare, diciamo, i nemici, ha una durata base di 25 secondi, quindi avere 90% di durata potere si tramuta in circa 19-20 secondi di durata potere, comunque che è tantissimo. Cioè poter addormentare un nemico o dei nemici ad area per quasi 20 secondi significa avere tutto il tempo del mondo per ricaricare l'arma, ucciderli, superarli, scappare, fare veramente qualunque cosa. Per cui, secondo me, va benissimo. Così non c'è bisogno di avere più durata potere di quella base o comunque del 90%. Per quanto riguarda invece la potenza potere, vediamo adesso come riempire l'ultimo slot. Io ho utilizzato Vigore. Ora, il discorso è questo. Se con Vitality vi trovate bene e siete a posto, allora non avete necessità di inserire un ulteriore mod difensiva. Se invece avete la necessità di avere un ulteriore mod difensiva, valutate voi fra Vigore e Redirection. Se giocate con Rage, io vi consiglio di più Vigore, ma anche Redirection ci potrebbe stare bene. In alternativa potreste eliminare sia Vitality che Vigore e inserire come unica mod difensiva Quick Thinking, che non sarebbe una scelta sbagliata, tutto sommato, perché comunque siamo in grado di avere veramente tanta capienza energetica, 450 di capienza di potere, per cui Quick Thinking dovrebbe funzionare molto bene su Equinox. Per riempire l'ultimo slot, comunque io ho preparato una lista nella configurazione B di mod che potremmo inserire. Abbiamo appunto Redirection, Vigore, Talento Naturale. Talento Naturale non ve l'avevo ancora detto, però dopo faccio un'altra parentesi. Possiamo sfruttare però quest'ultimo slot per mitigare il Malus in potenza potere nel caso in cui non vi piaccia questo fatto che io nella mia build ho veramente un Malus molto pesante in potenza potere. Quindi potete scegliere di togliere Vigore. Nel mio caso non ho sufficienti punti, quindi mi limito a mettere un Intensify. Magari avrei bisogno di una polarità V se volessi mettere qui una mod da potenza potere. però vedete in questo modo raggiungo il 70% della potenza potere base che non è malvagio quindi già recupero qualcosa. Potreste anche usare Transcent Fortitude, vi ripeto a me non mi ci sta al momento. Ovviamente perderete un pochino di durata potere però comunque secondo me rimarrà a livelli buoni nel senso che avrete circa 70% di durata potere spero di aver dato durata e non potenza anche prima. Vabbè, 70% di durata potere che significherà avere penso sulla seconda abilità un 12, 13, 14 secondi di dormita insomma sui nemici per cui è un tempo anche lì secondo me più che sufficiente quindi valutate voi. Riguardo a talento naturale sta dicendo Talulant Nater non so che cazzo mi stavo inventando insomma riguardo a talento naturale molte persone ho scoperto che lo utilizzano e ci si trovano bene io non lo ritengo di fondamentale importanza perché tutte le abilità hanno un cast piuttosto veloce la prima abilità è quella col cast più lento ma purtroppo non scala su talento naturale quindi non verrà velocizzato in alcun modo talento naturale funziona a questo punto solamente sull'abilità finale che ha un cast un'animazione un po' più lunga però a parte quello secondo me non è poi così indispensabile quindi anche qua scelta vostra dipende come vi trovate voi quindi vi ripeto o chiudete con un'altra mod difensiva o con talento naturale o con una mod come Transcent Fortitude o Intensify per limare un pochino il malus in potenza potere io per il momento mi sto trovando bene con vigore ma penso che proverò anche un po' con talento naturale nei prossimi giorni per quanto riguarda il nuovo slot lo slot non mi ricordo come si chiama Exilus mi pare io ancora non l'ho sbloccato su Equinox perché onestamente Equinox in generale non è che mi abbia fatto poi impazzire più di tanto però prima o poi lo sbloccherò una cosa che vi posso consigliare ma farò un video specifico a riguardo un po' per tutti i Warframe è di andare a utilizzare ad esempio Handspring che hanno modificato mi pare qua anche la descrizione perché prima Handspring ci faceva rialzare all'istante quando venivamo buttati a terra ora dice che invece il recupero dall'essere caduti a terra è il 160% più veloce del normale quindi non è istantaneo ma è velocissimo di fatto anche prima non era istantaneo era un errore della descrizione perché comunque anche lì era velocissimo ma appunto non istantaneo quindi vi consiglio Handspring ma un po' su tutti i Warframe perché aiuta veramente tanto poi valutate voi ce ne sono veramente un sacco anche Surefooted non è male perché dà il 60% di probabilità di resistere ai knockdown quindi di non essere atterrati è piuttosto utile anche questa valutate voi insomma con quale poi vi troverete meglio io direi adesso di andare a vedere un pochino Equinox in gioco così ci facciamo un'idea un po' più concreta di tutte le sue abilità ho scelto un Asterminio su Ceres il pianeta si chiama Aludi un Asterminio contro Grineer di livello circa 30 35 per cui il livello che scelgo più o meno sempre primissima cosa beh c'è Cefalon Sima rischieparla non sapevo che adesso i bersagli di sintesi fossero qui non sono molto aggiornato evidentemente dopo le vacanze bene sperimentiamo insomma la prima abilità metamorfosi e passiamo da un aspetto all'altro come vedete per un attimo passiamo nell'aspetto ibrido dopodiché raggiungeremo effettivamente l'altro aspetto questo è quello diurno ritorniamo a quello notturno eccoci qua proviamo ora la seconda abilità quindi quella che è in grado di addormentare nella forma notturna vedete il nemico verrà di fatto diciamo legato ancorato al suolo noi potremo tranquillamente puntare a fare un bel headshot e ucciderlo se ci fossero stati altri nemici nelle vicinanze saremmo riusciti ad addormentare anche quelli magari provo a farvela vedere anche in forma di urna ovvero quando gli potremo accelerare e rendere più vulnerabili i nostri attacchi meglio però a questo punto spararmi un restore di energia perché se devo fare tante prove nonostante sia una build con tanta efficienza rischio di ritrolarmi a corto la forma di urna di aspetto mi piace veramente tanto considerate che io però ho un elmo particolare l'elmo solstizio mi pare si chiami ok di energia ne abbiamo a sufficienza acceleriamo il nemico non so effettivamente se avrete notato il danno maggiore però effettivamente funziona questo ve lo posso assicurare per quanto mi riguarda comunque preferisco molto di più giocarmi la seconda abilità in forma notturna perché la trovo nettamente superiore sono convinto che i cc crowd control la capacità di bloccare i nemici sia una capacità nettamente superiore a quella di fare più danni perché se il nemico è fermo non mi interessa fargli più danno sul singolo colpo tanto posso tirargli tutti i colpi che voglio finché è lì a dormire immobile davanti a me proviamo ad attivare la terza abilità la terza abilità dovrebbe garantire una riduzione del 50% del danno dei nemici presenti all'interno della nostra area vedete l'area è delineata da questa linea sottile blu che continua a girarci attorno purtroppo non è molto visibile e se c'è un problema che ho riscontrato in equinox è proprio il riuscire a capire se le nostre abilità la terza e la quarta sono attive o meno io nel frattempo ragazzi ho attivato anche la mia abilità finale quindi sto drenando più energia anche per quel motivo lì come vedete è aumentato un contatore io ora riattivo l'abilità vedete mi sono curato quindi ho sfruttato questo contatore per riuscire ad accumulare una cura il nostro cubrow ha ucciso questo grineer e anche la sua uccisione è stata conteggiata per aumentare il contatore allora riattivo ok sono di nuovo full vita quindi come potete vedere ci si riesce a curare senza grossi problemi quindi la forma notturna secondo me ci permette un approccio quasi stealth più tranquillo al gioco quindi possiamo vi ripeto continuamente addormentare i nemici ogni volta che finiamo in una stanza differente possiamo attivare la nostra abilità finale a nostro piacimento ma insomma quando ne abbiamo necessità in questo modo possiamo dedicarci all'accumulo di quel contatore che poi ci permetterà di curarci che in realtà basta veramente poca energia accumulata per poterci curare e possiamo giocare tranquilli perché comunque vi ripeto abbiamo una build con tanta efficienza per cui non abbiamo poi grossi problemi nel mantenere attive sia la terza che la quarta abilità non trovo i nemici eccolo qua dormi e vi faccio vedere una finisher corpo a corpo giusto per dimostrarvi il fatto che i nemici addormentati sono appunto suscettibili agli attacchi da finisher vi vorrei far vedere a questo punto le abilità in forma di urna vi ho fatto vedere vabbè quella che accelera che ci consente di fare più danno che probabilmente non viene sfruttata nemmeno moltissimo dal fatto che appunto non ho particolare potenza potere forse è per quello o forse una volta ho fatto un headshot e l'altra volta no per cui i danni insomma variano molto a seconda della fortuna anche oltre che della mira dunque in forma di urna noi attiviamo la nostra abilità finale che è quella secondo me fondamentale i nemici vengono storditi vedete e iniziano a sanguinare ora ci sposteremo mi hanno chiuso la porta mannaggia quando devo fare i video mi capitano di tutti i colori ok hackeriamo usiamo un un cypher così facciamo prima vi farò vedere che la anzi facciamo una cosa la disattiviamo vabbè non so se avete notato ma ho ucciso dei nemici ora la riattiviamo stordisce i nemici continua a fare danno da taglio su tutti i nemici presenti nell'area infatti vedremo tutta una serie di numerini abbiamo accumulato un contatore di 3000 riscarichiamo l'abilità sui nemici non ha funzionato tanto bene sto morendo mettiamoci un attimo qua dietro switchiamo sulla forma notturna come vi dicevo il problema di equinox è appunto la lentezza comunque nel passaggio da una forma all'altra addormentiamo un po' di nemici attiviamo anche la quarta così magari ci possiamo curare se dovesse servire li ho addormentati adesso li uccido per accumulare un po' di bonus così se avessi bisogno di curarmi adesso a breve potrò farlo passiamo alla forma di urna a questo punto direttamente la voglio far rivedere bene attivo l'abilità finale in forma di urna i nemici sono per il momento un pochino debilitati stanno immobili insomma continuano a beccare un danno nel tempo qua in realtà non lo sto più facendo non capisco bene il perché uccidendoli comunque il contatore continua ad aumentare adesso siamo a 4000 può aumentare tantissimo se avete accanto a voi una sarin l'ho visto su draco in intercettazione quando sarin accanto a me uccideva un bel gruppo di nemici il mio contatore saliva a 40.000 in un attimo ed era veramente molto utile comunque una volta accumulato questo bonus di energia andiamo a cercare un bel gruppo di nemici e vi faccio vedere il danno e la portata anche a cui siamo in grado di scagliare poi questo danno ingente raccogliamo tutte le mod che tutto fa brodo in questo gioco ok ora abbiamo un contatore di 10.000 che è più che sufficiente penso per farvi vedere un po' il danno allora vediamo se riesco ad evitare di incontrare un nemico per volta perché cazzo fa un danno della madonna su un'area pazzesca vorrei farvelo vedere su più nemici ecco vedete stanno sanguinando mi sono entrati a portata non so perché prima avevano smesso di sanguinare ora mi allontano un pochino per farvi vedere che ha veramente tanta portata l'attivo qui vedete i nemici sono esplosi sono esplosi questi due ma ne è esploso anche uno qua lì dove vedete quei brandelli di Grineer è veramente un'abilità fantastica questa in particolare in missioni in cui come avrete capito i nemici si ammassano tanto quindi in survival difese difese mobili e anche intercettazioni la trovo veramente veramente utile però è secondo me l'abilità più utile in forma diurna di Equinox cioè non sento mai la necessità di attivare la seconda e la terza la seconda vi ripeto è quella che accelera scusate mi va sempre via la voce la seconda è quella che accelera i nemici ma li rende più vulnerabili la terza è quella che aumenta la nostra potenza potere di un pochino nostra e dei nostri alleati sicuramente aiuta la terza è bene anche probabilmente tenerla sempre attiva però non non mi convince comunque tantissimo vedete ho riattivato l'abilità ho ucciso gente o comunque danneggiato gente che stava lì in fondo però qui finisce l'abilità diurna cioè giocarlo qui finisce il modo il gioco della forma diurna secondo me è tutto legato all'abilità finale per quanto riguarda invece la forma notturna vi ho fatto vedere abbiamo un gran gioco comunque della seconda abilità che addormenta utile per noi per la nostra squadra un grande utilizzo anche dell'abilità finale che ci consente di curare noi la nostra squadra non è una cura immediata ma vi ricordo che il contatore dell'abilità finale aumenta uccidendo i nemici io ora sono da solo ma quando si gioca in squadra il contatore sale molto rapidamente perché anche i nostri compagni di squadra uccideranno diversi nemici per cui diventa più immediata giocando in squadra e in sostanza sì la forma notturna appunto ha tanto gioco della seconda gioca parecchio di abilità finale e poi vabbè la terza riduce i danni dei nemici nella portata per cui anche qui può essere utile attivarla così come per la forma diurna ma appunto non dobbiamo far niente dobbiamo semplicemente attivarla e tenerla attiva se poi vabbè abbiamo problemi di energia la disattiviamo e aspettiamo insomma di accumulare un pochino più di energia in conclusione avete capito le due abilità che mi piacciono di più sono la seconda in forma notturna per addormentare i nemici e la quarta in forma diurna per fare veramente tanti tanti danni ad area è una cosa sorprendente purtroppo in una modalità di sterminio non riesco a farvela vedere molto bene ma fidatevi andate a provarla in una missione di intercettazione una difesa e diventa veramente allucinante chiaramente dovete avere la pazienza di accumulare prima tutti i danni necessari per riuscire a shottare i nemici la cosa buona è che appunto questi danni aumentano virtualmente all'infinito come per l'abilità finale di Mix per quello anche secondo me non è necessario avere più di tanto potenza potere perché l'abilità che fa effettivamente danno sui nemici è proprio l'abilità finale in forma diurna quindi in sostanza che senso ha scusate fatemi scansionare questo mi sto incasinando nel parlare lascialo stare oddio cos'è che devo scansionare ancora no smettila oddio ce l'ho fatta dicevo l'unica abilità che effettivamente scala potenza potere è la quarta in forma diurna ma col fatto che il suo danno viene accumulato da quel contatore uccidendo nemici siamo in grado di fare tantissimi danni senza avere potenza potere per cui veramente non trovo la necessità di avere tanta potenza potere se volete limare il malus che abbiamo che ho nella mia build lo posso capire ha senso ma avere tanta potenza potere investire proprio per avere tanta potenza potere mi sembra una cosa abbastanza inutile non lo trovo necessario quindi io non lo farò sulle mie build di equinox almeno per il momento poi come sapete in warframe tutto è soggetto a frequenti modifiche cambiamenti correzioni fix per cui non si sa mai per il futuro insomma se la build rimarrà buona così o si andrà modificata io nel frattempo sono arrivato all'estrazione ho ucciso tutti i nemici sono anche riuscito a scansionare il bersaglio di Simaris ma insomma vi ho detto tutto vi ho fatto vedere un po' di cose vi saluto vi ricordo come al solito di mettere un mi piace se vi è piaciuto il video vi ricordo di iscrivervi al canale di cercare la pagina dsrpg su facebook e niente adesso davvero vi saluto e vi aspetto al prossimo video ciao a tutti